Noi oggi avevamo diverse assenze, non è una giustificazione però quando ti manca completamente il reparto offensivo. È una squadra giovane che ci esprimiamo anche bene, giochiamo un buon calcio però negli ultimi 30 metri ci manca quella cattiveria per poter far male agli avversari. Giochiamo bene da dietro però si fa male negli ultimi 30 metri, lì che poi nel calcio si diventa decisivi e noi lì facciamo un po' fatica, siamo molto giovani. C'è costruzione di gioco e lì bisogna crescere, certi giocatori non si possono regalare a nessuno perché noi avevamo delle assenze importanti. Però ti ripeto, abbiamo perso ma i ragazzi si sono comportati bene considerando un attacco che il più grande aveva 22 anni. Quindi hanno fatto contro una signora squadra che secondo me è la miglior squadra del campionato senza nulla togliere agli altri. Cioè è vero che il Sant'Antonio, il Vico, il Poggiovalino sono ottime squadre però secondo me Lischia è una delle candidate davvero a poter fare il salto di categoria. Però fino all'1-0 siete stati molto bravi perché non avete concesso praticamente nulla all'Ischia nonostante una squadra molto giovane. Panchina tranne Salvatore tutti under anche in campo, 5 under invece di 3. Ti ripeto, noi avevamo almeno 6-7 persone fuori. Noi giochiamo un buon calcio, poi alla prima disattenzione paghiamo Dazio perché Lischia comunque ha trovato questi due gol su due palle lunghe, non attraverso il rame di gioco. Poi dopo per noi si fa difficile perché noi ci manca quella cattiveria che Lischia cercava di voler far gol. Noi invece siamo belli da vedere ma non siamo cattivi per far male agli avversari e quindi poi le paghi, il bel gioco non basta a volte perché bisogna essere cattivi negli ultimi 30 metri e noi non lo siamo stati. Io non so se è mai stato un obiettivo vostro ma la sconfitta di oggi vuol dire addio pre-off, addio sogno pre-off? No ma diciamo io da che sono arrivato era già difficile arrivarci, significava non sbagliare quasi mai, dover vincere tutte le partite ed era un qualcosa di molto complicato con squadre importanti. Noi siamo una buona squadra però c'era bisogno di crescere, di fare, comunque io da un mese ho cambiato tante cose però c'è bisogno di crescere tanto, non siamo pronti per quegli obiettivi oggi. Magari col tempo sai avendo avuto un po' di tempo in più magari potevo provarci però adesso è una squadra che può far bene ma non può puntare ai primi posti. A me fa un... Di una volta, permettetemi solo di ringraziare la società per l'accoglienza che abbiamo ricevuto per la squadra e tutta la città, tutti i tifosi per l'accoglienza che ho ricevuto. Io personalmente che mi ha riempito il cuore davvero essere così ringraziati da tutti che si ricordano di quel che io ho fatto qui è stato davvero un motivo d'orgoglio perché io per due anni e mezzo in questa piazza ci ho buttato il sangue, come si suol dire, in campo. Sono stati anni fantastici di vedere tante persone con cui ho condiviso, spogliato io, sono stati semplici tifosi. E' sempre bello rivederli e auguro all'Ischia di arrivare dove merita. Vince 3-1 l'Ischia Calcio con la Torresa. Allora facciamo i complimenti all'esposito. Dico giovane ma ormai sei già un veterano per come ti muovi in campo. Successo prezioso, buona prestazione anche se avete faticato nei primi minuti a trovare il gol. Sì, sì, è stata una buona prestazione da parte tutta la squadra. Nei primi minuti abbiamo trovato un po' di difficoltà perché anche la Torresa è un'ottima squadra. Però dopo l'1-0 di Sasa penso che la partita l'abbiamo dominata e poi anche con il 2-0 di Rubino già l'abbiamo messa dalla nostra la partita. Poi nel secondo tempo dopo il 3-0 di Gigio la partita era quasi finita. Dispiace per il gol finale però va bene. Inoltre è una partita molto importante e adesso pensiamo al Poggio Marino. Probabilmente vi dispiacerà anche per l'espulsione di Carabrile Sirabella per il doppio giallo. Ti chiedo dal campo, c'era questo secondo cartellino che tanto ha fatto arrabbiare Mister Bilar di i tifosi? Ma sinceramente non c'era il secondo giallo Sirabella. Però l'arbitro ha deciso così e ormai è andata. Era una partita molto importante. L'Ischia da oggi non è più quinta ma è quarta in classifica. E soprattutto adesso si va con una consapevolezza diversa. Ti chiedo probabilmente a giocare anche contro il Poggio Marino. Una partita importantissima. Voi adesso siete quarti e soprattutto avete visto che anche in casa di signore squadre come Vico Equenze riuscite ad essere grandi protagonisti. Sì, ormai noi ci giochiamo tutte le partite anche se Poggio mi è un'ottima squadra. Noi andiamo lì per vincere e da adesso tutte le partite sono come tutte finali. Per chiudere una curiosità, sei sempre protagonista di quest'Ischia. Ormai Mister Bilar di si affida a te con una certa continuità. Sì, mi fa molto piacere ma ci stanno anche tanti altri giocatori che possono giocare al posto mio. Mi fa piacere che il Mister fa giocare sempre a me. Ma sai, fino al gol l'unica squadra in campo mi sembrava proprio l'Ischia. Poi è logico che tu prima o dopo se ti capita l'occasione e lo fai poi diventa un po' più facile. Questo sì, però intendevo per il canovaccio della Torrese, tutti dietro, sembrava difficile trovare forse il varco giusto. Poi l'Ischia c'è riuscito ovviamente. Sì, siamo stati bravi ad attendere l'occasione giusta. È arrivata con l'Italiano che ha un piede eccezionale, trovando un gol bellissimo. Poi abbiamo giocato sempre noi. Penso che la squadra si stava esprimendo benissimo. Abbiamo raddoppiato con Rubino. Non ci voleva, non penso che c'era la doppia munizione per Sirabella. Ed è diventato un po' più faticoso poi portare a termine il risultato. Visto, però nei primi 20 minuti ci è sembrato quasi di rivedere la partita con il quarto grad. Nel senso che sicuramente non è facile, ci sono anche gli avversari in campo e questa non era assolutamente una scuola scarsa. Il rettangolo gioco nemmeno vi favorisce. Però devo dire che ho notato qualche difficoltà di troppo nel trovare poi quel guizzo vincente, cosa che poi è capitata con l'Italiano. Questa è una cosa che molto probabilmente avevate voi come... Io invece ero abbastanza fiducioso perché vedo la squadra giocare con molta calma, con molta determinazione. È logico che poi dall'altra parte c'è sempre una squadra. Questi hanno fatto più punti fuori casa che in casa perché se andate a contare molto probabilmente hanno perso più partite in casa che fuori casa. Tutti i punti che hanno l'hanno raccolto maggiormente fuori casa. Poi è sempre difficile, io mi ripeto sempre, ancora una volta, che per arrivare ad un traguardo, questi sono, lo ripeto anche alla squadra costantemente, che i campionati si incominciano sempre nel giornale di ritorno e oggi fai fatica a giocare anche e soprattutto le squadre che si devono salvare, che vogliono tirarsi fuori dai play-off, dai play-out, chi vuole arrivare nei play-off, diventa sempre più difficile. Noi andiamo avanti per la nostra strada, stiamo andando bene, sicuramente questa è una squadra che se l'avremmo avuto tutti quanti, l'avremmo avuto dall'inizio della stagione, molto probabilmente avremmo qualche punticino in più e potremmo giocare in un tutto altro modo.